Il recupero dell'area ai talcementi come uno dei maggiori snodi di uno sviluppo diverso per Civitavecchia. La Giunta tedesco ha approvato nei giorni scorsi una delibera che approva gli indirizzi attuativi del piano strategico e della perimetrazione dell'area con annessi interventi di bonifica e di rigenerazione urbana. Si tratta di un atto particolarmente voluminoso che prende spunto da due distinte relazioni prodotte da iniziativa, finanza e innovazione. Una società specializzata nella consulenza alle grandi aziende e alle pubbliche amministrazioni che supporta e assiste nella programmazione, attuazione e rendicontazione di operazioni e programmi finanziati da risorse pubbliche. L'aspetto più importante della delibera è rappresentato dal fatto che il Comune di Civitavecchia cercherà di accedere ai fondi del PNRR ovvero del Fondo Nazionale di Ripresa e Resilienza per partecipare in qualche modo all'investimento che dovrà comunque vedere preventivamente la bonifica delle aree per circa 75 mila metri quadrati che quasi per un secolo hanno ospitato la fabbrica del cemento. Nella delibera di Palazzo del Pincio si prende atto e si approva il documento di perimetrazione aree ai talcementi con annessi interventi di bonifica e rigenerazione urbana oltre agli allegati elaborati grafici per la promozione del relativo programma di generazione urbana di cui alla legge regionale del Lazio numero 7 del 2017 nell'ambito delle opportunità del PNRR dichiarando nell'interesse di pubblica utilità. Si dà poi atto che il Sindaco interverrà in nome e per conto dell'amministrazione provvedendo ad inoltrare e formare istanza presso gli enti competenti per la richiesta di fondi finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali. Stabilisce infine che il gruppo di lavoro già costituito nel 2016 per lavorare attorno alle diverse ipotesi di nuovo sviluppo per la città attivi tutte le procedure previste dal PNRR in ambito locale, metropolitano e regionale per l'accesso alle risorse previste dalle misure rivolte alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.